L'incidente questa mattina è intorno alle 6 e mezza sulla 565 a Castellamonte nei presidi del svincolo per Bairo. Un 61enne di Valpergan, rientro dopo aver portato la figlia al lavoro a Pavone, ha perso, forse a causa del manto stradale viscido, il controllo del suo Fiat Punto, è uscito fuoristrada finendo la sua corsa nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti in ambulanza i carabinieri della radiomobile di Ivrea. L'uomo, dopo una prima medicazione, è stato portato all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita.